Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Fabrizio Braconeri e la dura patologia che ha dovuto combattere Ne ha parlato lui stesso con una rivelazione sui social.Riuscire a restare sulla cresta dell'onda in un contesto così complesso come il mondo dello spettacolo, può risultare un compito assai arduo Per alcuni la notorietà diventa un peso, mentre per altri subentrano delle questioni puramente personali che rendono necessario un allontanamento Breve o duraturo, la vita ti mette di fronte a delle scelte, ed anche se si sta cavalcando una carriera importante, si rende necessario prendere delle decisioni importanti A volte il pubblico non si dà spiegazione, e la verità può anche venire a gala a distanza di anni Fabrizio Braconeri.Ecco perché in molti si saranno chiesti in questi anni, ma che fino ha fatto Fabrizio Braconeri? Stiamo parlando di un volto che nel corso del tempo è diventato estremamente comune nella case degli italiani, per un motivo molto semplice Fabrizio, tra le altre cose, è stato per anni una delle presenze costanti negli studi di Forum, programma molto seguito in quel di media setè che ha permesso allo stesso Fabrizio di restare al centro dell'attenzione Certo, la carriera di Braconeri non è legata in maniera stretta ed assoluta a Forum Stiamo parlando di un personaggio che ha cominciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo come attore In molti lo ricorderanno Nei panni di Bruno Sacchi, ruolo che ha interpretato nella serie TV i ragazzi della terza c'apostrofo trasmessa da Italia 1 Un successo importante, che rappresentò per Fabrizio soltanto un primo passo verso il successo Tanta televisione, poi anche cinema e teatro.Fabrizio Braconeri, la dura tragedia nella sua vita Fabrizio Braconeri.Dopo averlo visto per tanti anni in maniera praticamente quotidiana, la carriera di Fabrizio ha avuto una brusca frenata L'attore ha anche spiegato, attraverso i social, di avere un problema molto serio, la depressione Proprio su Twitter l'attore, qualche anno fa, denunciò il ritorno di una patologia che lo aveva messo alle strette già precedentemente, facendo poi ritorno improvvisamente Due giorni che mi perseguita questa brutta depressione ma non vincerà la maledetta, non mollo, le parole di Braconeri Ce l'ho da 13 anni, ero in un buon periodo ma da due giorni è tornata Il medico me l'ha diagnosticata o preso il prosa Kicks 3 anni, ha poi specificato ancora l'attore rispondendo ad alcuni messaggi dei fan Il tutto, però, pare essere rientrato nel corso del tempo. Abbiamo visto Fabrizio impegnato, infatti, con il film Lockdown all'italiana nel 2020 Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video